Dove papà che per 30 anni è stato il custode degli spogliatori dello Stato San Paolo e mamma come dicevo è stata la cuoco e governante di Casa Maradona e mia sorella è stata la babysit di Darmeggiannino e lì è nato tutto, diversi oggetti, le magliette, pantaloncini, calzerotti, tutto Napoli per me è tutto, Napoli è la città dove sono nato, il mio quartiere che è fra i miei anni e i secondi anni sono fiero orgoglioso di essere del mio quartiere e della mia città Napoli per me è la mia seconda famiglia la Napoli degli anni 80 era diversa, era più e meno come adesso, era un po' più povera diciamo però era pieno di valori, quello che oggi purtroppo sta andando a finire era la Napoli dei valori, la Napoli del rispetto, la Napoli bella oggi con tante cose vedi con internet si sta perdendo un po' tutto anche nel parlare socializzato con le persone, Napoli negli anni 80 quando c'era Diego era una Napoli più bella, più di cuore, in senso familiare Napoli è sempre Napoli, è sempre la città per me la più bella del mondo quando Diego c'era a Napoli tu aveva quanti anni? io avevo 12 anni ma Diego l'ho riconosciuto come persona ecco per dirti come mi trovo a volte tanti oggetti Diego avevo come a sorridere, ancora oggi porta le scarpe della puma io ho avuto la fortuna di avere il piede come Diego no? piccolino e allora avevo la fortuna che quando lui poi montavo insieme alla moglie all'epoca dava le scarpette e le cose, mi diceva porta a casa i bambini perché come diceva una famiglia siamo 11 figli e Maratona si vedeva lì, ci sosteneva ci ha dimostrato l'amore verso la famiglia quando lui andava a giocare fuori casa Claudia con le bambine dal meciannina venivano a mangiare da mamma è una storia, una cosa indimenticabile, bellissima ho visto delle cose al di là del personaggio di là c'è Maratona mangiavamo a casa sua all'improvviso ci facevano le sorprese veniva a casa di mamma e papà a farceli sotto quando erano i nostri compleanni cioè là si vedeva la persona al di là del personaggio, cioè la persona umile, semplice che com'è Parlami del tuo padre Parlare di mio padre è una figura importante e tu immagini che io vengo da una famiglia che siamo 11 figli papà, io sono il sesto di 11 figli questo dico a volte, no? mio padre è una persona che per me non è mai morto, è sempre più perché io dico noi figli siamo l'anima dei nostri genitori e grazie a mio padre e mia madre posso raccontare questa storia perché si chiama, ecco proprio inditolato da mio padre, Club Napoli Saverio Silviovini la storia, che è un continuo di una storia che non morrerà mai dopo di me spero i miei figli, i miei nipoti porteranno avanti questa bellissima storia di aver conosciuto il più grande calciatore di tutti i tempi come lui ha conosciuto in una grande famiglia come mio padre e mia madre e il tuo padre ballava tango? mio padre aveva la passione, mio padre era molto molto bravo ecco a volte il destino della vita, no? cioè mio padre era uno dei più grandi ballerini di tango a Napoli lo venivano a chiamare le persone per andare a fare le gare a volte andava lui e una sorella e a volte con mia mamma mio padre era molto bravo a ballare il tango era una cosa che le persone quando andavamo a un matrimonio, a una festa e ballava si incantavano perché era una cosa detta lontano e dopo tanti anni ecco ha conosciuto Diego e guarda a volte l'argentino cioè a mio padre quando ballava il tango era una cosa bellissima e anche a Maradona gli piaceva il tango? si, a volte è capitato che a casa hanno fatto dei balli che ballava papà con mamma mamma ballava con Diego e quando si ballava il tango mio padre era... era una cosa guarda... dove io non ho mai imparato a ballare il tango Diego ballava tango? Diego si, Diego è un ballerino ma di là che è un grande cacciatore ma è uno dei più grandi ballerini Diego ballava in una maniera bellissima Diego è un grande ballerino benissimo parlami della tua mamma mia mamma è la colonna principale mia mamma è una donna che ancora oggi ha 71 anni è di una forza della natura cioè portare avanti 11 figli in un quartiere di Napoli insieme a papà non è facile ci hanno dato amore, rispetto, la semplicità e quella è la cosa bella della mia famiglia che hanno sempre dato esempi importanti di amare anche le persone con la semplicità tuo figlio è il più piccolo è Diego Diego quando lui ti domanda chi è Maradona tu che dici? è un fratello mio figlio lo chiamo zio Diego non lo chiama Diego cioè un'emozione bellissima quando Diego ha rivisto mamma dopo quinta anni è stata un'emozione per me è una delle più belle che mi ha piaciuto cioè vedere Maradona piangere abbracciando con mamma ti dice tutto capito? questo è il significato cioè vedere ecco 4-5 anni fa è stata a casa di mamma Dalma questo è una soddisfazione cioè con tante milioni di persone che Diego conosce a Napoli ospitare Dalma e dormire a casa di mamma vuol dire l'amore, la stima e il rispetto che c'è verso la mia famiglia verso mia mamma verso di noi il piatto preferito di Diego? ma mamma ci ha fatto assaggiare tanti piatti preferiti napoletani lo spaghetto con il soffritto la fresella napoletana con le olive sopra e formaggio, mortadella la zuppa di pesce c'erano tante cose tanta carne pure che Diego è sempre e l'argentino ci piace molto tanta tanta carne ma mamma l'ha fatto assaggiare tante cose belle napoletane le melenzane sottolio hai capito? che è una tradizione napoletana questo è il pallone, il mitico pallone 3-1 a Torino vinto da Napoli per la prima volta quello di Polpicina, Giordano, Ferrario questi palloni della puma personalizzato di Diego che ha portato qualche pallone se lo faceva fare appeso poi ci sono diversi palloni che ha giocato poi ci sono le scarpette in occasione dei mondiali del Mess 86 con il belgio vedi? la fascia di capitano insieme alla Moco i guanti quando purtroppo lui sbagliò il calcio di rigore a Mosca poi c'è l'orologio con la firma di Diego dentro questo è l'orologio di Diego? che sta la firma dentro la madonnina la madonna di Luciano Luciano vedi? poi ci sono le scarpette con il nome Diego Maradona sopra vedi? poi la mitica mascotte vedi? la mitica mascotte che è Pelé con le occasioni dei mondiali 90 a Maradona vedi? poi questa è la panchina vedi? la panchina di Maradona con diversi vedi? ecco qua vedi? questa è la panchina di Diego le borse la Mars e Abitoni vedi? poi ci sono diverse riviste che panno questo è il contratto vedi? che Maradona con il contratto che Maradona è passato dall'Argentina nato dalla Barcellona a Napoli l'obiettivo mio no era un sogno di mio padre perché questo è come tu vedi un angolo di museo che era tutto allo stadio San Paolo purtroppo dopo la scomparsa di papà ho deciso di portare tutto via per una sicurezza mia personale perché al di là del valore che ero benestimabile è il valore che vale verso la mia famiglia e mio padre cioè per me non ha valore cioè questa è roba inestimabile sono ricordi bellissimi ma ci sono tanti oggetti che mi hanno offerto tanti soldi per dire c'era un grande collezionista di Roma che mi ha messo per una fotocopia del contratto di Panadona 20.000 euro che avevo rifiutato cioè ti lascio immaginare per me sono oggetti affettivi e non hanno valore i valori inestimabile il sogno di mio padre era quello di se ritornasse a San Paolo per dare la possibilità a tanti turisti e tante argentine che vengono a visitare la nostra bella città di fargli vedere però sono fiero orgoglioso per quello che ho fatto e per quello che abbiamo fatto insieme ad amici collaboratori che è un angolo e una cantinola di casa mia che vengono giornalisti, televisioni, turisti di tutto il mondo e per me è una bellissima soddisfazione ma soprattutto per Napoli che ha avuto il calciatore più forte di tutti i tempi e noi non esiste il museo invece il museo a Napoli esiste dove l'ho fatto io, Massimo Vignati insieme alla mia famiglia e tante persone che mi vedono bene perciò a Napoli esiste il museo di Maradona della famiglia Vignari e soprattutto la cosa bella che aiutano tanti bambini che hanno bisogno che significa Maradona? Maradona significa tutto Maradona significa di là del... noi siamo una famiglia che chiamiamo l'uomo nel personaggio che Maradona è una persona semplice, umile, bella Maradona a Napoli è come San Gennaro è un dio, è una persona che è una figura molto importante per noi napoletani perché nei momenti difficili ci ha dimostrato l'amore verso la città vincendo dei trofei, degli scudetti, delle coppe e per noi napoletani Maradona è una figura che non muore mai ma Maradona ti emoziona sempre ho avuto la fortuna di vivere sette anni indimenticabili cioè per dirti uno ho avuto la fortuna che gli uniti andavo a giocare con lui a caccetto andavo con lui in macchina, con lui agli allenamenti ma a distanza di tanti anni quando mi vedo con Diego mi emoziona sempre perché io lo voglio bene e più cioè come un fratello per me non è la figura ma un personaggio la fortuna oggi che sono ora un uomo di 43 anni all'era avevo 12-13 anni mi rendo conto che i sette anni che ho vissuto però per me ho vissuto dei momenti bellissimi ho dato tanti consigli ecco non vuol dire Maradona per me è come un fratello Maradona va di là di tutto io lo voglio bene e bene come un fratello e per me è stato un esempio importante è una figura importante perché Maradona lo devi amare per quello che è io ho avuto la fortuna di vivere gli anni belli con Diego però non è che io ho recitato Diego cioè ecco io non porto tatuaggi, orecchini non sono stato sempre contro la droga non vuol dire che per chi stava con Maradona Maradona lo amava per quello che è capito? e per me è stato un esempio importante perché una persona umile poi la cosa bella di Maradona che non dimentica mai chi era e da dove veniva è molto importante mi lascio dire i nostri vedi piccolini Barcellona questa tutta la carriera di Diego Barcellona Scudetto e Coppi Davide e Napoli Siviglia dove ha giocato Diego Marcellona 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 Boga Junior Mondiale 86 Mondiale 90 94 86 90 vedi? maglietto della Mars e questo ragazzo che poi non c'è più che è arrivato alla 10 di Diego vedi le scarpette guarda qui Diego vedi? questo è il biglietto vedi? quando mamma è andata a San Carlo tutti i mammi Maradona ci lo vive un ragazzo napoletano vedi? e qua sotto vedi qua quando lui faceva le feste andavamo lì tutti quanti noi vedi? grazie grazie